I dati 2021 sul cancro al seno affermano che il carcinoma mammario è la neoplasia diagnosticata nelle donne con più incidenza, una donna su tre. In Italia sono stimate circa 55.009 diagnosi e 12.500 i decessi. La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è dell'88%. Dalla fine degli anni 90 si osserva però una continua tendenza alla diminuzione della mortalità per carcinoma, meno 0,8% l'anno, attribuibile a una maggiore diffusione dei programmi di diagnosi e di screening precoci e anche dei progressi terapeutici. A Napoli questa mattina è il taglio del nastro della Race for Cure Comen 2022. A inaugurare la tappa partenopea è il presidente del calcio Napoli Aurelio De Laurentiis che bacchetta il governo, la politica, le istituzioni sull'immobilismo nell'affrontare il problema delle bonifiche e della terra dei fuochi dove insistono anche il centro di allenamento del calcio Napoli. Il governo ha delle grosse responsabilità perché molto spesso il governo è assente su dei temi fondamentali che riguardano la vita di noi cittadini. Poi noi cittadini abbiamo un grosso problema che non andiamo a votare. Il cancro al seno può diffondersi ad altri organi in genere attraverso i linfonodi. Una delle cause è l'inquinamento ambientale. A Napoli e in Campania tantissimi sono i siti ancora oggi attenzionati come discariche abusive. Una delle municipalità in città più colpite dai tumori al seno è la decima municipalità fuori grotta Bagnoli dove la presenza dell'area dell'exit al Sider è da considerarsi una delle principali fonti di avvelenamento. Il sindaco Manfredi ha i nostri microfoni. Si sta facendo un grande lavoro sulle bonifiche. Noi adesso su Bagnoli abbiamo appena concluso tutta la bonifica dell'amianto che tanto dolore ha portato in quei territori, in quel quartiere. Noi avere un ambiente sano è il miglior modo per poter aiutare le persone a stare bene. In piazza del Plebiscito è stato allestito il villaggio della salute della Race for Cure con la carovana della prevenzione, aree mediche per offrire gratuitamente esami di diagnosi e screening per le principali patologie femminili. Il professor Riccardo Masetti, soddisfatto ai nostri microfoni, spiega. Questa manifestazione vuole aiutare a recuperare i tempi che si sono persi e dare un contributo così come abbiamo fatto a Roma due settimane fa a Bari e oggi a Napoli a rimettere al centro dell'attenzione l'importanza della prevenzione e di prendersi cura della salute.